Tra le assenze all'incontro con il manager dell'Asle Salerno, Antonio Squillante, tenutosi lunedì, non è passata inosservata quella del consigliere regionale del Partito Democratico, Donato Pica. In realtà qualcosa si era intuito, viste le dichiarazioni al vetriolo del consigliere regionale, qualche giorno prima della venuta di Squillante a Polla. Pica continua, con una nota diffusa in mattinata, ad attaccare Squillante, definendo tardiva ed inutile la visita del direttore generale all'ospedale di Polla. Re ho inoltre di aver proposto discorsi generici, che non offrono soluzioni immediate e si limitano a richiamare la normativa vigente. Come partito provinciale e gruppo PD regionale, continua il consigliere, abbiamo deciso di non partecipare all'incontro. Alle tante nostre iniziative precedenti, interrogazioni, mozioni, diffide, convegni, il dottor Squillante ha sempre risposto con il silenzio, senza considerazione alcuna del ruolo istituzionale e regionale. Parafrasi e giochi di parole non servono, conclude Pica. Se l'ASL Salerno ha davvero a cuore le sorti della sanità nel Vallo di Diano, deve preventivamente ed innanzitutto disporre, senza se e senza ma, il comando a Polla dei medici e degli specialisti necessari da altre strutture del territorio provinciale, garantendo il mantenimento dei livelli occupazionali ed il rispetto del decreto numero 49 del 2010.